Caritas non si ferma mai, molti sono i servizi già avviati, altri si aggiungono agli esistenti, non ultimo il cosiddetto nuovo dormitorio invernale strutturato in una nuova e più dinamica e più accogliente ancora risposta. Ma occorre sostenere questi progetti e per sostenerli occorrono le persone. I servizi ci sono, nascono, crescono, ma per farli vivere pienamente nel loro significato di chiesa, di comunità, di territorio di coinvolgimento c'è bisogno delle persone che vivono questo territorio, del volontariato. I volontari sono sempre stati e saranno sempre una risorsa eccezionale per la Caritas, perché danno loro il significato di un servizio che è presente in un territorio, perché le persone che vivono in un territorio danno la loro opera nei confronti di persone più in difficoltà, in emarginazione, in solitudine, in gravi difficoltà. Ed è il territorio che quindi va incontro ad accogliere le persone in difficoltà. E chi lo può fare meglio che un volontario che dà il proprio tempo gratuito a disposizione del prossimo, indipendentemente dalla propria fede, dai propri principi, ma spinto da una generosità e da una volontà di aiutare il prossimo. C'è sempre bisogno, soprattutto e ancora di più in questo periodo, capiamo le difficoltà, le paure, i timori, non ce li possiamo nascondere, il periodo è pesante ed è anche un po' gravoso. Però confidiamo ancora di più nella volontà, nella forza d'animo di tante persone che si vogliono anche rimettere in gioco dopo un periodo difficile che ancora stiamo purtroppo attraversando, per dare una mano a chi ancora vive maggiore difficoltà rispetto alle nostre. E questa è la sfida che noi come Caritas dobbiamo sempre portare avanti, incentivare questo impegno, incentivare questo servizio e animare il territorio a favorire e a prendere coscienza di più di questa fascia di popolazione e di persone che vivono in uno stato di bisogno. Quindi faccio appello a chiunque voglia o chi abbia anche una disponibilità, anche minima, però per venire a darci una mano perché siamo pronti ad accogliere chiunque voglia per essere con noi a favore di persone che comunque vivono una situazione di difficoltà. Caritas però garantisce naturalmente, come abbiamo detto, la sicurezza sia degli ospiti sia del personale volontario naturalmente che è presente ed è garantisce questa sicurezza e questa protezione nelle forme previste anche dalle indicazioni legislative. È la prima cosa importante perché una persona deve sentirsi accolta, deve sentirsi anche tutelata. Quindi quel minimo che possiamo fare è quello di comunque fornire tutti i dispositivi di protezione sanitaria, quindi geligienizzanti, mascherine, termometri, guanti, tutto è a disposizione. Il problema non sono i materiali che ci sono a disposizione, ma è far riprendere la volontà di tante persone che comunque l'hanno e che questo periodo forse è stato un po' subito da questa difficoltà. Ecco, certo c'è da fare attenzione e l'attenzione la poniamo quotidianamente, quindi anche gli ospiti sanno che i ritmi sono più rallentati, devono rispettare determinate anche norme e regole che prima invece erano un pochino più blande, ma questo con un po' di coraggio, un po' di volontà riusciamo comunque a far passare l'idea e a far passare con la mentalità.